Questione morale, un ex commissario del PD coinvolto pesantemente, una brutta botta. Questo lo stabilirà la magistratura. I presupposti non sono felici, non potete dare un buon esempio, almeno in teoria. Se qualcuno ha sbagliato risponde personalmente, io spero che siano pene esemplari. Per concludere, la città è brutta, sporca e cattiva con Melucci, ma non lo era anche prima quando amministravate voi insieme a Melucci? Noi abbiamo interrotto questa esperienza amministrativa dal punto di vista della responsabilità del governo, proprio perché ci siamo resi conto che non c'erano i risultati attesi. Dopo sette anni? Non sono stati tutti a sette anni. Gli ultimi venti giorni è cambiato il clima? Non sono stati venti giorni. Siete usciti un mese. Vabbè.